ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video come prima cosa prima di entrare nel vivo di quello che starete leggendo ormai già nel titolo volevo ringraziarvi ringraziarvi perché avete speso tutti chi più e chi meno nelle belle parole di supporto per me e non appena la tosse mi ha dato un pochino di tregua mi sono impegnato a realizzare quello che mancava per fare questo video ossia leggere il secondo libro quindi grazie a tutti e presto vedrete questo rispetto a quando sto girando ho deciso di cominciare in grande stile questa rubrica con ben due libri soprattutto perché il primo è veramente molto piccolo il che attenzione non fa assolutamente questo un libro pessimo tutt'altro però preso da solo secondo me avrebbe dato origine un video troppo corto e quindi parleremo di due libri un po di dati prima di parlare di trama il primo libro è questo tre parole dopo di valere rossi riflessioni intorno al successo sottotitolo editore fq prezzo 12 euro però a me è stato regalato dal proprietario della mia scuola che tra l'altro è in contatto proprio amichevole con con valere rossi dunque sicuramente è un libro molto di nicchia nel senso non non aspettatevi il libro che interessa a chiunque però comunque si ha una sua utilità soprattutto perché soprattutto perché c'è una tendenza da parte di chi vuole fare musica ad oggi di pensare ok ho il talento faccio il provino x factor e domani mi andrò milioni e milioni di dischi non è proprio esattamente questo e questo libro piuttosto corto 141 pagine quindi si legge anche bene riesce a rendere perfettamente l'idea per quello che riguarda questo fatto cioè tutta la gavetta che deve fare qualsiasi artista anche il più talentoso per arrivare se tutto va bene se si trova la casa discografica risposta a prodotti e quant'altro per arrivare a calcare i grandi palchi spero di non dire niente di sconnesso ma questo video è molto disturbato per quanto riguarda il font o carattere che chiamare si voglia ho chiesto ho chiesto a qualcuno il favore di farmi una foto perché avendo problemi di vista non tanto gravi non riesco a rendermi conto quanto possa essere difficile per un ipovedente leggere questo libro quindi consultandomi con jessica del canale miele cannella siamo convenuto che una foto non troppo distante non troppo vicina potesse essere sufficiente quindi in qualche modo cerco di lasciarvi la foto fermate il video guardate la foto per un'idea del font se ve lo consiglio come detto è un titolo molto di nicchia non ci si aspetta che interessi a chiunque però tutto sommato è una lettura abbastanza scorrevole fatta eccezione per alcuni punti dove secondo me ci si perde un po' troppo incitazioni musicali e letterarie ralentando leggermente la lettura ma nel complesso un buon libro e arriviamo quindi al nostro secondo e ultimo libro per questa rubrica ve la faccio vedere un attimo la gemella silenziosa di S Kate Romaine edito da Garzanti questa volta magari vi lascio subito la fotografia del font a me è sembrato piccolo però non lo so il prezzo di copertina per il cartaceo sono 16,90 euro per l'ebook 9,99 euro online 14,37 euro su internet su internet parla di 320 pagine ma in realtà io che l'ho appena finito vi dico che l'istoria effettiva le pagine sono 306 un po' troppe infatti la prima critica che che devo fare su questo libro non è sul genere come si può pensare ma scorre veramente troppo troppo lento nonostante i capitoli siano piccoli molto piccoli veramente però mi è scorso troppo lento ci ho messo mesi e mesi a leggerlo sono stato mesi senza aprirlo neanche ma andiamo a parlare della trama una giovane famiglia padre e madre e due gemelle che questi e l'idia si trova a fare i conti con una tragedia l'idia muore canello dal balcone e la famiglia decide di reagire a lutto con un trasferimento nell'isola di torrent in una casa ereditata ereditata dalla nonna non torrent scusate ma torrent il libro si apre quindi con la famiglia che cerca di andare avanti nel migliore dei modi e soprattutto di sottostare al dolore della piccola kirsty che era molto legata alla gemella fin quando questi non sorprende i genitori con un'affermazione che vi siete sbagliati io non sono chiesti l'idia e da qui si dipana una trama complicatissima di cui fino all'ultimo non capirete il senso cioè se volete capirci qualcosa dovete proprio finire il libro non c'è niente che vi possiate aspettare se non finendo il libro secondo me è troppo lungo cioè pur di allungare i tempi si è fatto di tutto non è adatto sicuramente ad un pubblico di minorenni sia per quanto riguarda il linguaggio non dico che sia perennemente scurrile però in alcuni punti ci sono dei termini molto poco ortodossi e ricercati ecco sia per quanto riguarda il fare esplicito di alcune scene e di alcune tematiche trattate le scene sono soprattutto di intimità quelle più esplicite e poi ci sono altre tematiche trattate che non vi dico perché magari qualcuno vuole leggere il libro che sono trattate in modo piuttosto forte non lo consiglio diciamo ai minori di 18 anni il genere di libro che proprio penso di dare via in qualche modo proprio non mi è piaciuto il finale mi ha lasciato alquanto sorpreso ma se non sbaglio anche Sara dell'anguolo degli Arcania mi ha detto questa cosa comunque tranquilla mi prendo io la responsabilità di averlo voluto mettere nella lista desideri dalla quale poi mi è stato regalato e leggerlo non è assolutamente una critica nei tuoi confronti anzi al contrario sono contento di essermi imbarcato in un genere che non era il mio perché udite udite questo è un thriller però se io non mi avessi fatto queste anticipazioni all'inizio non si capisce tanto che sia un thriller perché una tragedia familiare volendo potrebbe far parte di un qualsiasi altro tipo di romanzo e invece ci troviamo di fronte ad un thriller appunto e nulla ragazzi io sono veramente molto contento di aver aperto finalmente questa rubrica a cui tenevo tanto vi avevo promesso che sarebbe arrivata nel 2019 ce l'ho fatta non posso dirvi quando sarà il prossimo video un po' perché appunto andrò via da grosseto spero sia questo mese che sia il prossimo in piccoli in piccoli soggiorni ecco e un po' perché ovviamente devo leggere l'altro libro che ho in mente di portarvi se mi seguite su instagram probabilmente saprete già qual è il prossimo libro non vi dico altro seguitemi su instagram truecolorsyd il video finisce qui vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e di seguirmi su tutti i social per anticipazioni succulente quale per esempio il prossimo libro ciao a tutti ciao a tutti